Allora, via, lo sai che ti becca sempre l'intervistina? Ti hanno finalmente riammesso, finalmente ero nell'AIA, è stato questo, tra l'altro un enorme buco vuoto perché io non l'ho bevuto, me lo racconterai con calma. Te lo racconterò perché certo non te lo farò bere. No, quello mai, per quello te me lo mandi mai, non me lo merito. Non me lo merito, per questo e per questo nelle tue conoscenze ci fai fare il purgatore, sei tu la vera intelligenza occulta e tutte le guide d'Italia. Però fin fine, infatti non mi tocco, comunque complimenti, quindi la Toscana, però siamo sempre ieri al Piemonte, ragazzi, ancora non ce la facciamo. Siamo sempre i nostri fratelli, cugini, amati, odiati e comunque da noi supportati. Questo è raro in Italia, questa fratellanza, grazie.